Il mese di ottobre degli appassionati di motori isolani inizia oggi nel Coros Logudoro con uno degli slalom storici del panorama sardo con la ventesima edizione della Seredda Ittiri. La manifestazione, valida come undicesima prova della serie Aido Patrizia Bigi, sarà disputata su un percorso ricavato sulla SS 131 bis di 3830 metri, intervallati da 14 postazioni di birilli. Una sessantina le iscrizioni della gara che vede al via alcuni dei principali protagonisti della specialità tra cui Fabio Angioi, Radical e la Formula Gloria di Fabrizio Magliona, Enrico Piu, Stefania Serra e Pier Raffaele Marcello. Sarà della partita anche ad entrante Giovanni Cannoni al debutto su Formula Gloria, Franco Angioi, ottimo terzo nell'ultimo appuntamento di Nuoro, Angelo Fois, Dario Mannoni, Paolo Arca e Francesco Sanna. Da segnalare la presenza del giovane esordiente Francesco Casiddu su Proto VST, reduce dagli ottimi risultati del campionato regionale kart. Tra le ruote coperte spiccano i prototipi di Franco Piras, Antonio Tagliatti e Mario Dettori, Antonello Marongio e Roberto Idili, le Renault 5GT di Mulas, D'Accosta e Vargiù, la Renault Crio di Giacomo Grussu e la Opel Cadet GTE di Gianfranco Basso. Questo pomeriggio le verifiche tecnico-sportive, mentre domani motori accesi dalle 10 con la manche di ricognizione seguita dalle 3 di gara.